Quando Cristina Fiordimela e io ci siamo conosciute alla scuola di scrittura pensante quest'anno della libreria delle donne di Milano, lei è venuta lì, non so bene ancora per quale motivo, ma certamente è stata lì sempre e l'avrà avuto. Io invece sono andata lì perché volevo imparare l'arte di dimenticarmi del linguaggio accademico che ho frequentato per troppo tempo e mi si è attaccato addosso e non riesco ancora adesso, ma cercherò con voi. Vediamo se la scuola mi ha insegnato qualcosa. Però quando mi ha detto, io vi conoscevo naturalmente, poi sai venendo d'architettura devo dire tutti i movimenti di occupazione dal basso sono cari al nostro cuore, ma devo dire che quando mi ha detto che qui si rifletteva, ci dicevamo delle cose attorno a queste due questioni pubblici che mi ha subito sottolineato la I plurale e rappresentazione, ho detto, mi sembra un'ottima idea, perlomeno mi ci sono riconosciuta e vi spiego perché. Io vorrei partire dalla questione della rappresentazione e mettere qui, buttare come Bigli e spero in mezzo a noi, una questione della rappresentazione che riguarda quello che una volta si chiamava soggetto sociale e un problema della rappresentazione che si chiama, che riguarda l'ambiente. Di che cosa? Io mi sono occupata da sempre. Prima, io sono una matematica e fisica di formazione, ma volevo fare l'architetto e il mondo è stato buono con me. E devo dire, quando sono venuta a Milano da Modena, mi hanno chiesto di entrare al Politecnico di Milano a Ingegneria e insegnare analisi matematica, ma per mia fortuna, devo dire, all'epoca di Portoghesi mi chiamò alla Facoltà di Architettura di Milano chiedendomi se volevo andare a insegnare analisi matematica agli architetti. Io poi, devo dire, un po' di anni dopo mi hanno dato la direzione dell'Istituto di Matematica della Facoltà di Architettura di Milano, che ho chiuso, tanto per mostrare subito cosa pensavo di una cosa che andava di moda allora, che era quella di trasformare l'urbanistica da una disciplina ancora di stampo umanistico a una disciplina matematica completamente razionalizzata. Ho detto, passerete sul mio cadavere. E tanto per fare capire come la pensavo, l'ho chiusa. Devo dire, i miei vecchi colleghi ingegneri, che non ho mai considerato, non considero ancora ora, miei amici, ma i miei vecchi amici di matematica, che forse non mi consideravano amiche, non mi hanno mai più salutata. Ma io devo dire, non mi sono mai pentita di questo gesto. Da una parte perché da lì nacque il primo Dipartimento di Scienze del Territorio d'Europa, che fondammo proprio in quegli anni, unendo l'Istituto di Matematica che dirigevo io e l'Istituto di Urbanistica che dirigeva Piero Bottoni. Quello che ha fatto, sai, ha fatto tante cose a Milano, il QT8, tanto per dirne una, ma anche la palazzina fiammeggiante di rosso fuoco a Sesso San Giovanni, che è la sede del Comune, l'avrete vista, immagino. Chi non l'ha vista vale la pena di andarlo a vedere perché è un esempio di che cos'erano quei tempi di speranza, eccetera. E di attesa, di rivoluzione, certamente nel senso dei cambiamenti, ma forse anche di rivoluzioni intesa come drastico cambiamento politico. Ebbene, allora, vi dico, poi ho partecipato, nella mia biografia sta, ho partecipato negli anni Ottanta a un movimento di donne che si chiamavano, voi certamente non lo ricordate perché siete troppo giovani, le donne cambiano i tempi. E per la prima volta, credo nella storia del mondo, forse possiamo dire, è successo che le donne abbiano preso la parola con tanta forza, ha coinvolto manifestazioni, seminari, incontri, bisticci. Insomma, migliaia e migliaia di donne si sono trovate d'accordo sul fatto che non ne potevamo più di come si potevano gestire i tempi di vita, i tempi di lavoro, gli orari di lavoro, perché il tempo è ricondotto, tranne un contratto sociale, tramite un contratto sociale a orario quando si lavora, quindi tempi di vita, orari di lavoro, e noi abbiamo detto anche tempo per sé, tempo per noi stessi. E qui fa la differenza, come vi lascio immaginare. Questo movimento di donne, che già vedo da come rispondete, di cui non ne sapete niente, bellissimo, succede così in tante cose, secondo me. Poi, dette luogo a una domanda di una nuova legge che non passò, poi insomma il Comune di Milano a un certo punto, grazie a un piccolo emendamento che è sfuggito al controllo statale ed è diventato un articolo di legge, Paola Manacorda, che era assessora al Comune di Milano, mise insieme un team che si chiamava, le donne cambiano i tempi della città per cambiare il sistema degli orari pubblici di Milano, cioè gli orari dei servizi pubblici, che sono quelli che danno l'organizzazione dei tempi della città. Quella roba per cui se io esco dal lavoro le sei di sera trovo un tram che mi può portare a casa, piuttosto che, chiaro no, questi sono i tempi della città, che si manifestano in ritmi, per cui usciamo, come dire, il ritmo classico della Milano, dell'Italia industriale, era tutte le fabbriche si mettevano d'accordo per chiudere non lo stesso giorno, primo agosto, le loro grandi fabbriche di 200.000 operai, ma in modo leggermente sfalsato per non riempire l'unica autostrada che c'era allora e portare i nostri, come dire, chi a casa, chi a Rimini, chi nelle nuove spiagge del turismo di massa. Ebbene, che cosa ne sortì da questa questione? Ne sortì un movimento internazionale dove c'erano donne del movimento, ma ci sono stati anche tanti attori sociali, le imprese, attorno a questo tema di cambiare il sistema degli orari pubblici della città, a favore di che cosa? E qui entrano in gioco non tanto le donne, ma le donne del femminismo, in particolare milanese, che hanno detto per spostare il gioco tra tempi di vita e orario di lavoro a favore di quello che chiamano primum vivere, secondo me, con un concetto bello, interessante, primum vivere. E poi hanno fondato, io partecipo anche questa, questa Agora che attiva Milano, dove si dice, ci diciamo, che in questa crisi economica, che a noi sembra più una crisi di civiltà che una crisi puramente economica, forse c'è l'occasione e la possibilità di spostare questa dissoluzione di un ordine economico verso un primato dei tempi di vita, delle dimensioni della vita e delle relazioni della vita. Allora, qual è la mia rappresentazione, tornando al tema della rappresentazione? Vi dico subito che a mio avviso, dopo questa lunga esperienza, ma poi non sono la sola, mi auguro a pensarla così, ma non è infatti, è così, lo dicono in tanti oggi, ci sono due punti di forza del cambiamento, della trasformazione in atto, belle o brutto che siano, che non riescono a rappresentarsi ancora, anche se sono lì, appena sotto traccia, e potrebbero, anzi sono già uscite, ma facciamo fatica a vederle. Uno è la città, la nuova città contemporanea, una città nuova che permetta di spostarsi sulla dimensione del primum vivere e non primo lavorare. Noi abbiamo gli orari di lavoro, il tempo di lavoro e il lavoro, ha occupato la giornata, la mente, i desideri di noi umani per troppo lungo tempo. Ormai forse possiamo produrre economia senza necessariamente metterla al centro della nostra giornata, dedicare i tempi migliori della nostra vita, dimenticare che le relazioni sono relazioni affettive, amorose, di cura della crescita dei minori e altre cose che chiamiamo generalmente civiltà. Allora, in che cosa questa, come dire, la città? La nuova città contemporanea, la città che sia capace di ospitare il primum vivere, che ha come posta in gioco nuove libertà. È evidente che nel mondo circolano idee di libertà nuova, le donne ne hanno tante e precise. Già lo spostamento sul primum vivere è una grande idea, a mio avviso. Sono ovunque portatrici di opere, di civilizzazioni, ovunque nel mondo. Il mondo è percorso da movimenti di tutti noi, senza differenze tra uomini e donne, anzi è commovente come le donne e gli uomini sappiano stare uniti in quel momento, che sono movimenti politici che chiedono nuove forme di libertà. Mi sembra evidente questo fatto. Non ci saranno pratiche di libertà nuove, comunque le andremo a intendere, o già le intendiamo, senza una città che sia in grado di ospitarle e di valorizzarle, e di metterle in atto, di metterle alla prova, di farle vivere e di farle convivere. Ecco, queste sono le due questioni. Due sono le cose, pertanto, questo. E oggi le donne vogliono rappresentarsi, non sono riuscite a rappresentarsi al mondo interamente, in modo universale, proprio in una dimensione di... E qui capiremo che cosa vorrà dire questo fatto, ma oggi le donne desiderano, con il loro pensiero, che abbiamo elaborato anche distaccandoci e separandoci per certi momenti, desiderano essere presenti in corpo e vivo a questa esperienza di ripensare al mondo. Credo di avere finito. Cosa vi posso dire ancora? Ah, come... Soltanto una cosa. Come si rappresenta, a mio avviso, il mondo alla mia personale percezione? Le cose che accadono. Secondo me si rappresenta come un caos entropico, scusate se uso un concetto della fisica matematica, entropico, quello per cui sai, nell'universo cresce la temperatura e quindi... È un processo entropico dove si notano qua e là dei processi di auto-organizzazione sapienti e molto, molto interessanti. Ebbene, tutte queste, le innovazioni che ci sono appartengono alla dimensione del tempo e a due dimensioni del tempo. In questa dissoluzione della civiltà, dell'industriale, con tutte le sue pompe, i suoi riti, la sua splendida cultura, la sua grande scienza, dico non dimentichiamo che proveniamo comunque da un'epoca di grandezza, anche nella capacità di istruire guerre, trucidare persone, come sempre la grandezza a due facce. Ebbene, in tutto questo, ciò che poi, alla fine, oggi, emerge, è la capacità di rappresentarsi e di vedere e di costruire un paesaggio con queste emergenze che ci sono, molto, molto interessanti, secondo me. Ve ne dico una. La costituzione di un mercato mondiale del lavoro e della forza lavoro non è un fenomeno insignificante, può contenere davvero molti fenomeni interessanti al suo interno. Il fatto che le donne, oggi, siano all'interno di questi movimenti, spostamenti di forza lavoro nel mercato mondiale, una componente importantissima e dedicata ai servizi alla persona, non è una questione del tutto insignificante, può cambiare molte cose. Il fatto che la mobilità sia oggi un fenomeno quotidiano, per le pratiche di vita quotidiana, oltre l'orizzonte dei sensi, cioè lontano e vicino, rissemina nei luoghi, temporaneamente, delle popolazioni che stanno assieme. Il Salone del Mobile di Milano ne è l'esempio. La Salone del Mobile di Milano si risseminano assieme dalle popolazioni che vengono da tutto il mondo e abitano temporaneamente per pochi giorni, come diceva Ugo Lapietra, assieme abitano, forse no, bella questa cosa, mi è piaciuta molto questa cosa di Ugo Lapietra, di ricordare che l'abitare è una questione diversa, quello stare assieme, mi ricordo l'immagine della ragazza prima che ha fatto vedere dove si guardavano queste persone affollate assieme, ma che si capisce che apre, a mio avviso, la questione della temporaneità della cittadinanza. La cittadinanza è stato il pilastro della costruzione della civiltà, pensare a come oggi si può dare a qualcuno di queste popolazioni, di questi pubblici, una cittadinanza temporanea attraverso cui esercitare una scheggia di espressione politica potrebbe essere una questione sulla quale, fra le altre cose, in Europa si stanno riflettendo a lungo. Ho finito. grazie. Grazie. Applausi. Grazie.